I tre punti, era fondamentale. Abbiamo cominciato la partita, credo solo dopo il gol ci siamo svegliati, abbiamo cominciato a giocare da Messina e poi nel secondo tempo con la superiorità numerica si sono creati spazi e questo ha giovato alla manovra. C'è una pagata da Bernardo questa volta, era accaduto già con Buongiorno e lo mettessi a tu per tu con il portiere. Sono contento per questo, far segnare un compagno è come fare gol. Adesso dobbiamo cercare di continuare su questa strada, raggiungere il prima possibile l'obiettivo che ci siamo prefissati e continuare con questi risultati. Che spazio vuoi ritagliarti adesso in questo finale di stagione? Beh, io come ha detto il mister noi siamo una squadra di tutti i titolari, cerchiamo di farci trovare sempre pronti quando veniamo chiamati in causa e continuiamo ad allenarci dando sempre il massimo. Avete adesso un bel mattone verso la Lega Pro Unica, sette punti di vantaggio adesso? Beh sì, quello senza dubbio, però non dobbiamo abbassare la guardia perché ancora è lunga, dobbiamo continuare con questa voglia, con questa convinzione e cercare di arrivare all'obiettivo il prima possibile. Grazie per la visione!